Buongiorno e bentrovati a questo nuovo Appuntamento con Mattino 6 La nostra rassegna stampa inizia subito dalle prime pagine regionali Andiamo a vedere il centro, poi vedremo anche il messaggero e la città Partiamo dalla edizione di Pescara che apre con la cronaca Maxi truffa con buste paga false E questo è il titolo di apertura Raggirano 300 mila euro a Fin Domestic e Banca dell'Adriatico 32 sono gli indagati Andiamo a vedere poi a centro pagina Parte il 31 ottobre la campagna di prevenzione influenza Bruzzo in fila per 242 mila dosi gratuite di vaccino Dalla regione 1,4 milioni per l'acquisto Con un appalto vinto da tre imprese specializzate nel settore Andiamo a vedere nelle cronache Restando sempre alla nostra regione in particolare a Pescara Striscia la notizia nel capologo adriatico Ghione in comune date i parcheggi ai disabili Ancora da Pescara a diritto Pavone la sorella Voglio la verità e poi per il calcio Zampano quante falsità su di me E poi sentiremo la sua intervista nel corso della seconda parte Della nostra rassegna quando arriveremo alla pagina dello sport In Abruzzo poi ancora stop al fermo Torna il pesce fresco abruzzese Pescatori di nuovo in mare Io non rischio la campagna della protezione civile Al via si terrà il 14 ottobre Poi filo diretto con l'Inps Disoccupazione e come accedere all'indennità Andiamo a vedere nel taglio alto Restando sempre a Pescara, Panarello e Estrione a teatro Vi stupisco nell'era del web Poi di spalla all'interno troviamo i richiami Dalle cronache nazionali La legge elettorale alla Camera L'incognita del voto segreto Vedete la foto di Ettore Rosato Che è il firmatario della legge elettorale in discussione Poi la Catalogna indipendenza Puigdemont rischia il carcere Questo braccio di ferro fra Madrid e Barcellona Nel taglio basso, come ogni mattina Troviamo il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna Il titolo Solo la morte ci rende allegri e belli Andiamo a vedere perché La spiegazione scrive Di Tanna è semplice Quelle immagini sono tratte quasi sempre dalle pagine Facebook Che sono una vetrina di come vorremmo essere E non di come la vita ci ha ridotti Siamo avvertiti dunque se qualcuno avesse la sfortuna Di incontrarlo in italiano incazzato in fila O uno sportello in coda o in autostrada Non disperi Prima o poi diventerà solare Basta attendere Anche lui un giorno ci sorriderà Dall'aldilà Andiamo avanti con la lettura del quotidiano Il Centro Questa è la prima pagina della edizione di Chieti Lanciano Vasto Titolo di apertura Crolla l'intonaco chiuse quattro aule Liceo artistico sgomberato a Chieti Scuola già segnalata per l'indice sismico a rischio Nelle cronache restiamo sempre al capologo teatino D'Alfonso ecco i fondi per i lavori in via Piaggio E anche aggiungiamo noi per il teatro Maruccino E poi Casa Canditella il sindaco D'Angelo Mai tangenti per lavori Il sindaco è stato coinvolto nell'inchiesta Masterlist In una lettera chiede la scarcerazione Poi Ortona, la vertenza Libarton Accordo sui licenziamenti Andiamo a vedere le altre notizie Passiamo adesso alla edizione di Teramo del quotidiano Il Centro Titolo di apertura Ricostruzione bloccata dalle leggi Architetti e ingegneri sono diverse tra 2009 e 2016 Così non partono i piani Nelle cronache a Silvi Chiuso un bar il gestore tollerava lo spaccio E vedete il bar Riguana nel centro di Silvi Marina Ancora il caso Strade all'ANAS il Ministero cambia idea E poi il Forum dell'Acqua arriva carico radioattivo Nel Gran Sasso Passiamo alla edizione di L'Aquila Avezzano Sul Mona Il titolo di apertura I negozianti pronti a traslocare L'Aquila ultimatum al sindaco Gli uffici restino in centro E Biondi li rassicura Sempre di spalla nelle cronache Ad Avezzano picchia due pazienti Dentro il pronto soccorso E poi L'Aquila Rugby obiettivo Costruire un'unica società E sul Mona Casini Il piano di protezione civile E pronto Così il sindaco della città Peligna Andiamo adesso a cambiare testata Passiamo alla lettura del messaggero Questa è la prima pagina dell'inserto Abruzzo Il titolo di apertura Industria Crisi senza fine Dalla Atria alla Oneiwell 14 grandi vertenze Sul tavolo del Ministero L'esempio virtuoso Della Daico Stanziati 30 milioni A sostegno Del Terramano Questo per quanto riguarda Purtroppo le crisi industriali Nel nostro territorio E poi notizia positiva Da Montesilvano Il ritorno al passato Della Stella Marisi E di la consegna Dei lavori Anche questa notizia La andremo a approfondire Con i nostri servizi Nella seconda parte Della rassegna A centro pagina Truffa A banche finanziarie 30 denunce La gang faceva Ottenere prestiti A persone indigenti E tratteneva Le somme Ancora Silvi Le indagini partite Da un esposto Dei residenti Minorenni Sniffavano cocaina Al parco Leggiamo la didascalia Fumavano spinelli E sniffavano cocaina Di fronte a un parco Giochi E alla centralissima Piazza dei Pini Tra i consumatori Anche minorenni La piazza dello spaccio Un bar Di Silvi Nel taglio basso L'iniziativa Proposta Popolare Per la Maxi Regione Una super regione Del centro Italia Che nasca dall'Unione Di Lazio Abruzzo E Molise Con al centro Roma Provincia autonoma Sul modello Trentino E la proposta di modifica Costituzionale Ed iniziativa popolare Depositata ieri In Cassazione Dal comitato Macro Regioni Preseduto Da Pier Ernesto Irmici La nuova Macro Regione Sarà statuto speciale Al suo interno Ci sarà la provincia Autonoma Di Roma Capitale Il modello Sottolinea Irmici È già previsto Nella nostra costituzione Ed è quello Del Trentino Alto Adige Andiamo a vedere Di spalla Quest'altra notizia Materiali radioattivi La SOA Si rivolge Alla procura La SOA Onlus Che partecipa Alla mobilitazione Per l'acqua Del Gran Sasso Depositato Un nuovo esposto Alla procura Di Teramo In relazione Alle notizie Apparse su alcuni Organi di stampa Di un trasporto Nei laboratori Di fisica nucleare Di materiale Radiattivo Proveniente Dalla Francia Il Gran Sasso Attenzione All'acqua Con le sostanze Utilizzate Per i test Andiamo adesso Nel taglio alto Del messaggero Andiamo a vedere I richiami Dalle pagine Interne Chieti Bicentenario Del Marucino Dalla regione 200.000 euro E poi Motori Tarquini Inossidabile Vince ancora A 55 anni E per quanto riguarda Invece La Serie B Pescara La rabbia Di Zampano Sono rimasto Qui per Zeman Il difensore Si sfoga Dopo il K.O. Con il Cittadella Qualcuno crede Che ho firmato Controvoglia Invece Ho avuto Diversi Problemi Fisici Lasciamo La pagina La prima pagina Del messaggero Adesso Andiamo a vedere La città Il titolo Di apertura Del giornale Teramano Un altro Allarme Dal Gran Sasso Esposto ambientalista Sul rischio Radiattivo In arrivo Contenitore Decontaminato Al solito Comunicazione Assente E poi A centro pagina Fiamme gialle Distratta Da un fallimento Recuperate in Albania La barca Fantasma Andiamo Nel Taglio alto Altre Notizie Per salvare i posti Serve la volontà Politica Brucchi Strumentalizza Il parele Sulla Tercop Silvi Spaccio di droga Chiuso il bar Iguana L'abbiamo già visto In precedenza Anche sugli altri Quotidiani Poi Giulianova Costantini Numere all'otto Sulle nomine Sulle nomine All'ente All'ente porto E poi Da Martinsicuro Andiamo a vedere Meglio Illuminazione Dopo i disagi In difficoltà E sotto la fotografia Ubriaco Danneggio Quotidiani regionali Adesso Apriamo lo spazio dedicato Al nazionale Andiamo a vedere I principali quotidiani italiani Il Corriere della Sera Apre con il richiamo Ai neomagistrati Di Mattarella La toga Non è un abito Di scena Detto il Presidente Della Repubblica Richiamo di Mattarella Ai magistrati Legge elettorale L'ipotesi della fiducia Oggi è la Camera Il testo con le modifiche Unida E costituzionale Ma contraddittorio Ci sono ovviamente Posizioni critiche Sulla nuova legge elettorale Andiamo nel taglio alto Stretta sulle banche Arriva lo stop Da Tajani E Schäuble Dice Conti pubblici Norme più severe Questo è il messaggio Prima di andare A presiedere Il Bundestag Il Parlamento Tedesco Andiamo a centropagina A caso Weinstein Mary Streep Disgustoso Eroina Chi denuncia Hollywood E gli abusi La rivolta Delle donne Sulla Repubblica Il titolo Di apertura E sulla politica Interna Opzione fiducia Per Ius Soli E legge elettorale Una mossa Per blindare Le due riforme E il colle Dice La toga Non è un abito Di scena E poi a centropagina L'avvertenza Ilva Calenda Salarilva Da difendere Il governo Pronto a riaprire I giochi Scioperi Da Taranto A Genova E scontro Sul piano Di Mittal Arcelor Di spalla Il nobber Per l'economia La spinta lieve Che rende i consumatori Più virtuosi Premiate le ricerche Di Richard Tyler Sui comportamenti Sulla stampa Il titolo Di apertura E sull'Ilva Il governo Accusa L'azienda I soldi Li ha Non tagli I salari Il ministro Calenda Fa saltare La trattativa La CGL Dice L'Italia Impari Da Macron Non garantiti Inquadramento E anzianità Ai lavoratori Ieri la protesta Davanti Alle fabbriche A centropagine Invece Ritroviamo La Spagna Se cessione o rinvio Il giorno della verità Catalogna Attesa per il discorso Di Puigdemont Potrebbe far slittare La decisione Di sei mesi Molti pensano Che Venga fatta Una dichiarazione Di dipendenza Solo Di principio Così da tenere aperta La trattativa Con Madrid Andiamo sul Sole 24 ore Il titolo Di apertura Del principale Quotidiano Economico E finanziario Italiano Banche Rischio Tassi Ben gestito Pado Il ministro Dell'economia Dubbi Sulle novità Per i non performing Loans Cioè I crediti Deteriorati Delle banche Il ministro È critico Sulle modalità Adottate Dalla vigilanza Della BCE Gli istituti europei Dieci gruppi italiani Superano Gli stress test Voluti Da Francoforte E poi Altra notizia Di economia E di finanza Soprattutto Via libera All'Opa Atlantia Su Avertis Disco verde Della Consob Spagnola All'offerta Della holding Dei Benetton Sul 100% Del capitale L'eventuale Contropa Di ACS Dovrà arrivare Entro il 19 Di ottobre E poi Andiamo a vedere Quest'altra notizia Salari e contratti All'ILVA Stop di calenda A Arcelor Mittal Il ministro Annulla l'incontro Garanzie sufficienti L'azienda Dice Siamo sconcertati I numeri Della trattativa 10.000 L'organico previsto Secondo gli impegni Assunti con il governo Dal nuovo compratore Gli esuberi previsti Sono 4.220 E 50.000 euro Il costo medioannio Per dipendente Che il governo Indica come base Della trattativa Nel taglio alto Il tradizionale Focus del sole Statali I nuovi contratti Sforano I 5 miliardi Impatto da 2 miliardi Sulla legge Di bilancio Andiamo sul Fatto quotidiano Adesso Il titolo di apertura Legge elettorale Vietato opporsi Renzi minaccia Canguri E fiducia Pronte le trappole Per strozzare Il dibattito Ed evitare I voti segreti Il canguro E quella pratica Per cui Vengono tagliati Gli emendamenti E emendamenti Che vengono automaticamente Superati Se viene posto Il vincolo Di fiducia Sull'intero provvedimento E poi Nel taglio alto Ilva Gli indiani Fregano Il governo E gli operai Licenziamenti E taglia i salari Lo stop alla trattativa Da parte del ministro Calenda E poi la Catalogna Ora Racoi Evoca la guerra civile Il partito al potere Minaccia Il governatore Puigdemont E cercando così Di tamponare Una situazione Davvero Davvero complessa Andiamo ancora avanti Sul manifesto Il titolo Sulla fotografia Come da tradizione Jobs Disfact Avvelenati E licenziati Sono 4.000 Di esuberi Tra gli operai Del gruppo Ilva Per tutti gli altri La mannaia Del Job Act Con licenziamenti Facili E demanzionamenti Il governo Se ne accorge E ribalta Il tavolo Con Arcelor Mittal Ieri 4 vittime Sul lavoro Una A Mirafiori Nel taglio alto Invece La legge elettorale C'è in aula Il Rosatellum E tornano I canguri Andiamo ancora avanti Sul messaggero Qui il titolo E con il virgolettato Del forte monito Di Mattarella La toga Non è un abito Di scena Richiamo Del Presidente La Repubblica Davanti ai neomagistrati Dovete indossarla Come simbolo Di imparzialità A fondo Sul protagonismo Dei giudici Dopo il caso Davigo Non fatevi Influenzare Dall'opinione Pubblica E poi Altra notizia Verso il referendum Il reportage Veneto Un fiume di soldi Da Roma Vuole tenerseli Con un sondaggio A centropagina La fotonotizia Da Colombo Ai monumenti Fino a Cesare Battisti Quanto è difficile Difendere l'identità Italiana Dai detrattori Vedete un momento Della parata Del Columbus Day A New York E poi ancora Flessibilità A se Italia-Francia Ma Schäuble Chiede più rigore Il ministro tedesco Sui bilanci Controllo tecnico E non politico Diamo sul quotidiano Il tempo Il titolo di apertura Battisti come lollo E l'Italia Dorme Vergogna Il fratello Dei martiri Di Primavalle Storia uguale A quella del killer Dei miei cari Arriva il pentimento Fuori tempo massimo Degli intellettuali Che firmavano Per Cesare A centropagina Le intercettazioni Shock Dei rom Prima del rogo Di Centocelle Ora ti meno Poi ti bruciamo Questo l'approfondimento Sul fatto di cronaca Che riguarda La capitale Andiamo ancora avanti Su Libero Adesso Il quotidiano diretto Da Vittorio Feltri Sondaggio Dell'Università di Siena Se l'Italia chiede una cosa Il governo Fa il contrario Il 70% Non vuole immigrare Il 45% Non crede nell'Unione Europea Il 36% Odia l'Euro Sia all'uso di esercito E tortura Contro l'Isis Ma Gentilon Invoca più Europa E non chiude Le frontiere A centropagina Miracoli della nuova gestione Strapagato Fazio Provoca la caduta Degli ascolti Rai Sulla verità Come usano il canone La Rai Fa lo spot All'utero in affitto Nella sua trasmissione Sulla terza rete La scrittrice Murgia Ospita vendola E scioglie Un inno Alla pratica Vietata Dalle leggi italiane Maternità distinta Dalla gestazione E tanti saluti Allo sfruttamento Delle madri Surrogate E così il quotidiano Diretto da Maurizio Belpietro Che poi a centropagina Mette questa notizia Curiosa La spuma diventa islamica E la ragazza Del logo Indossa il velo A faroni Con il timbro Alal Puro Questa è la Nota Marca di spuma Così È diventata Nella versione Islamica La protagonista Del logo Andiamo sul secolo D'Italia Restando i quotidiani Di centrodestra E qui Siamo sul giornale Che fa riferimento A fratelli D'Italia Il titolo Un tetto Ai migranti Il tetto limite Ai migranti Non lo accetteremo Le ultime parole Famose di Angela Merkel In campagna elettorale Sono state smettite A distanza Di poche settimane La cancelliera Dopo la svolta elettorale Ha cambiato idea Ed è scesa a patti Con il partito Alleato Nel taglio basso In primo piano Contro l'islamizzazione Orgoglio polacco In piazza E poi Roma Multiservizi Licenze La Raggi Non dice niente Ancora si riapre Lo scandale PMPS Ex sindaco Rossi Fu ucciso Andiamo sull'avvenire Il quotidiano cattolico Apre con l'ILVA Il governo Fa muro Sugli esuberi All'ILVA Calenda Avverte la proprietà Il piano È inaccettabile Salta il tavolo Al ministero Con la cordata Di Am Investco Che proponeva il taglio Di 4.000 persone Delle condizioni Contrattuali Al centro pagina Poi nella fotonotizia Sia alle paritarie Bandi europei A tutte le scuole Lettera al governo Dell'Unione europea Per chiarire Poi i migranti Nave tunisina Sperono un barcone Morti e dispersi Soccorsi coordinati Da Malta E Italia Sul secolo XIX Il quotidiano genovese C'è l'ILVA In primo piano Piano ILVA Brusca Frenata Anno del ministero Alla riduzione dei salari I lavoratori in sciopero Tirano il fiato Calenda nulla L'incontro Con AM Investco Garanzie insufficienti Dice il ministro E qui vedete La foto Dei lavoratori In corteo Nel taglio basso Il giallo Di una rete ligure Per il killer Di Marsiglia Questo è il titolo Nel mirino Una settimana Tra Ventimiglia E la Francia Con lui il fratello Jihadista Arrestato A Ferrara Anis Anaci Il fratello Di Ahmed L'attentatore Di Marsiglia Che ha ucciso Due donne A Saint Charles Prima di Essere abbattuto Dalla polizia E passato Dalla Liguria In Liguria Ha spinto Il fratello Al martirio Almeno questa È l'ipotesi Investigativa E poi Mattarella Ai magistrati I nuovi protagonismi Questo è il richiamo Del presidente Della Repubblica E poi Pisapia Adesso detta Le condizioni Al PD Gentiloni Premiere Orlando A MDP Patto su manovra E legge Elettorale Questo per quanto riguarda La discussione A sinistra Del partito Democratico Sul mattino Di Napoli Titolo di apertura Blog 5 stelle La verità In tribunale Casaleggio Il sito di Grillo È commerciale I voti delle primarie Li conosciamo solo noi L'imprenditore Di Battista Testimonia Ad Aversa Si contraddicono Sulle regole Delle espulsioni Il caso Mattarella Magistrati In tv La Togna Non è un abito Di scena Ancora Ritroviamo le parole Del presidente Della Repubblica Poi il caso Ilva Calenda boccia Il taglio Dei salari Ancora ANM Inchiesta Sulle polizze Record Assicurazioni Da 15 milioni Per i bus Dopo la denuncia Della Corte dei Conti Indaga La procura Troviamo anche Il calcio L'Italia batte l'Albania Ma non passa La paura Sarà a testa di serie Negli spareggi E poi sfida Del pallone d'oro Mertens Tra i grandi La candidatura Per il giocatore Del Napoli Lasciamo adesso I quotidiani Generalisti nazionali Adesso apriamo Invece quelli Sportivi Passiamo dalla Gazzetta Dello Sport Per prima Testina di serie Il titolo Della Gazzetta Verso Russia 2018 In Albania 1-0 Sofferto Dell'Italia Ora ci sarà Il playoff Italia in prima fascia Ma continua A deludere Liberatorio Il gol Di Candreva Scusate Al 28esimo Della ripresa La buona notizia È che a novembre Eviteremo di sicuro La Croazia Che ha battuto 2-0 L'Ucraina E il Portogallo O la Svizzera Appello Del CT Ventura E Club Fate giocare I miei ragazzi Questo per quanto riguarda La partita Di ieri sera Andiamo nel taglio alto Fede Greg Litte Furiosa La nomina di Morini Ad allenatore Dell'anno Del nuoto Scatena insulti Veleni E minacce di querela Fra Federica Pellegrini Gregorio Paltrinieri E il figlio Del tecnico Poi per quanto riguarda La ginnastica Grinta Ferrari Sono ferita Ma non finita L'infortunio Della ginnasta Poi Grandi difficoltà Stelle mondiali O stelle cadenti Anzi a Messi CR7 L'Argentina L'ultima spiaggia Deve battere L'Equador Il Portogallo Controlla Svizzera Per evitare Lo spareggio Per quanto riguarda La conclusione Delle qualificazioni Mondiali Andiamo nel taglio basso Restando sempre al calcio Notizia che riguarda La Juve I 30 finalisti Di Bala Buffon Dzeko Mertens E Bonucci L'Italia da pallone d'oro Questo per quanto riguarda Il riconoscimento Piambito Nel calcio Prima candidatura Per il gioiello Della Juventus Favorito è sempre Cristiano Ronaldo Ma i nostri Sono in ascesa Parole di elogio Di France Football Per il portiere Della Juve Poi Verso il derby Due bandiere del passato Giocano per noi Inter Milan Samuel dice che Bravo Scrinier Ronaldinho Sto con Montella Brozovic Salta Anche il Napoli Intanto lo sponsor Tecnico Lascia I rossoneri Andiamo sul Corriere Dello Sport Il titolo E sulla Partita dell'Italia Missione Compiuta O quasi Come potete leggere Qualificazioni Ai mondiali L'Italia Fatica Ma ce la fa E testa di serie Agli spareggi Per la Qualificazione Ai mondiali Di Russia Agli spareggi Scusate Candreva Goll Albania Battuta Ventura Dice Sono sempre stato Fiducioso Nel taglio alto Io alla Juve Che onore Emre Can Sono orgoglioso Di aver ricevuto Un'offerta Il tedesco Del Liverpool Si svincolerà A giugno Per quanto riguarda Il pallone d'oro C'è anche Di Bala Nella lista Due italiani Bonucci e Buffon CR7 Naturalmente Il favorito E poi Nel taglio basso Napoli Non cambio Sarri con Pep E voglio chiesa De Laurenti Scatenato Lo scudetto È soltanto Il punto di avvio E poi la svolta Andanovic Sposa l'Inter È pronto a firmare Per la Champions Dai cinque stagioni Il portiere va a cacciare Un posto in Coppa E poi il caso Greg e Fede Il moto si spacca Tra Liti E Querele Su Tutto Sport Il titolo principale Allegriani contro Sarriani Filosofia Allegri Quattro scudetti Tre Coppe Italia E due supercoppe italiane Questo il Palmares E poi Sarri invece Che non ha ancora vinto titoli L'intervista Allegri A Tutto Sport Ha riaperto la diatriba Fra Juventini E Napoletani Nel taglio alto Un sospiro di sollievo Per l'Italia Che passa agli spareggi Ma bisogna cambiare L'esortazione di Tutto Sport Per un'Italia Che non ha convinto Sul piano del gioco Di spalla invece Il Torino Cairo prepara Il rinnovo Per Mijailovic Andiamo anche Nel taglio basso Marchionne Ma perché confermare Raikkonen Questa La critica Del capo Della Ferrari E poi Pellegrini Che rissa Con Paltrinieri Noi adesso Ci fermiamo Per il break pubblicitario Prima però Andiamo a vedere Le previsioni del tempo E poi torniamo Con la seconda parte Di Mattino 6 Eccoci di nuovo insieme Per la seconda parte Di Mattino 6 Torniamo alle notizie Dalla nostra regione E lo facciamo Andando ad aprire La pagina Di primo piano Del quotidiano Il centro Appalto da 1,4 milioni Influenza 242 mila Vaccini gratuiti La regione acquista Le dosi Da 3 ditte Ecco Quali sono Questa la notizia Che riguarda Appunto Le vaccinazioni Come ogni autunno Si approssima La stagione Del vaccino Per evitare L'influenza L'approfondimento Dagli over 65 I bimbi con più di 6 mesi Ragazzi adulti a rischio Chi ne ha diritto E tutte le Categorie Appunto Che possono accedere Alla vaccinazione Perché farlo Oppure no È meglio Non iniettarlo Ai bimbi con meno di 6 mesi Il ministero della salute Risponde a 13 domande Le più comuni e frequenti In Abruzzo Si parte Dal 31 ottobre Gli esperti Dicono Sono farmaci Controllati E sicuri Sapete che ogni anno C'è questa Diatriba Tra Antti Tra persone Che sono favorevoli Ai vaccini E chi invece Non intende Vaccinarsi Poi Tumore al polmone Nasce la rete virtuosa Restando la sanità Ogni anno in Abruzzo Ricoverati mille pazienti In 300 sono sottoposti A intervento Chirurgico Andiamo a vedere Le altre Notizie Interrogazione Della pezzopane La nuova finanziaria Aiuti le province Lasciate Al verde Andiamo ad aprire Anche la pagina Abruzzo Del quotidiano Il messaggero I nodi dell'economia Industrie in crisi Al ministero Quattro I tavoli Scusate Quattordici I tavoli aperti Dalla Atria Alla Onewell Alla ITV E tante altre imprese In gioco Centinaia di posti di lavoro E poi c'è l'esempio Virtuoso Della Daico Per la zona Vibrata Tronto Piceno Uno stanziamento Di 32 milioni A sostegno Delle aziende Con l'area di crisi Complessa Nel taglio basso Malavita Pescara Al top Tra le città Per usura E frodi informatiche Reati in calo Nella regione Ma non quelli Legati alla criminalità Finanziaria Seguono Teramo E Chieti L'Aquila Si colloca Tra le posizioni Più tranquille Del paese Andiamo avanti Sul quotidiano Il centro Pagina Abruzzo Anche per il giornale regionale Pesce fresco abruzzese Riprende la pesca Dopo 45 giorni Di fermo biologico Ricci di Federco Pesca Abruzzo Prematuro stimare Il riflesso sul mercato Polemiche Intanto Sugli indennizi Nel taglio basso Sabato torna La manifestazione Io non rischio Per quanto riguarda Le buone pratiche Di protezione civile Eventi nei capoluoghi Sulla prevenzione Da sisma Alluvioni E maremoti Andiamo a vedere Insieme Il servizio Le buone pratiche Di protezione civile Scendono in piazza Assieme ai protagonisti Delle azioni di salvataggio Cioè gli uomini Della protezione civile Sabato 14 ottobre A Pescara In piazza Garibaldi Con percorso cicopedonale Lungo il quale Si presenterà ai cittadini L'evento di esondazione Del fiume Pescara A Teramo In piazza Martiri Della Libertà Con un percorso Di trekking urbano Per una linea Del tempo itinerante A Chieti Con focus Sul piano di emergenza Comunale Sulla microzonazione Sismica E all'Aquila Presso le mura Del castello Cinquecentesco 300 volontari Saranno impegnati Per la settima edizione Di Io non rischio Al fine di sensibilizzare I cittadini Sul rischio sismico Di alluvione E maremoto Il sistema di proiezione civile Per esile Che sia Meno così come è diventato Negli ultimi anni Non può prescindere Da una conoscenza Dettagliata Dei rischi E dei modi comportamentali Da usare Sia da parte Delle istituzioni E anche e soprattutto Da parte Dei cittadini Ecco perché Una sempre maggiore acquisizione Della consapevolezza Del rischio E' un tema Fondamentale Una condizione Se ne qua non Il sistema Possa davvero funzionare L'evento Come ogni anno Cade alla vigilia Della stagione invernale E dopo quanto accaduto Lo scorso anno In Abruzzo Resta alta L'attenzione soprattutto Sul fronte Dei fondi Per i comuni E sulla carta Delle valanghe Il ristoro Dei danni Ai comuni Ha subito Dei ritardi E su questo Ci sarà un incontro Tra D'Alfonso Il capo Della protezione civile Nazionale Per quanto riguarda La prevenzione Del rischio valanghe Invece Mazzocca Assicura che presto Il documento Sarà pronto Dalle notizie Assunte Dall'ufficio E dal soggetto Aggregatore E' una questione Di giorni L'affidamento Temporaneo Alla Alla All'aggruppamento Società Che Tra le tre Che hanno risposto All'avviso pubblico Che risulta Giudicataria E successivamente Si faranno Le procedure Di rito Per la giudicazione Definitiva E la redazione Consequenziale Del piano valanghe Andiamo a vedere L'apertura Della pagina Di Pescara Sul quotidiano Il centro Il maxi Ragiro Buste paga False Per truffare Banche E società Finanziarie 32 Gli indagati Finanziamenti Con finte garanzie Sottratti 300 mila euro Notizia che ritroviamo In apertura Anche Sulla pagina Di Pescara Del messaggero Il titolo E truffa Le banche 30 indagati Scoperta Dalla mobile Una organizzazione Criminale Che con falsi documenti Faceva ottenere Ricchi finanziamenti Due pregiudicati Pescaresi E un foggiano A capo Del sodalizio L'inchiesta è partita Indagando Su un traffico Di stupefacenti E poi Sosta Ai disabili Striscia La notizia Arriva in comune A Pescara Gimiglione Al fianco di Claudio Ferrante E carrozzine determinate Pagnanelli E Civitarese Dicono Cederemo gli spazi Rinunciando Ai nostri Nel taglio basso Nuovo stadio Perché no Allo scalo Merci Questo il dibattito Sulla localizzazione Del nuovo stadio Del Pescara Andiamo avanti Sulla pagina Sulle pagine Di Pescara Del messaggero Medici Lanciotti Lancia Ceccagnoli Il presidente L'ordine professionale Lascia dopo 24 anni 8 mandati consecutivi Ancora avanti Convitto E Colonia La Stella Maris Riparte dal passato Alla De Cesare Il primo lotto di lavori Con fondi della regione Di Marco Dice E la volta buona Maragno Diserta L'appuntamento Andiamo a vedere insieme Anche questo servizio Sono partiti Questa mattina I lavori Allo Stella Maris Di Montesilvano L'edificio Sul lungomare Sarà un convitto Per l'Ipsier De Cecco L'istituto Alberghiero Di Pescara Il primo lotto Finanziato con un milione Di euro Prevede il completamento Di collegamenti verticali Cioè dei vani ascensori E dei vani scale La realizzazione Degli impianti idrici Termici ed elettrici Tra mezzi interni Rispondenti alla nuova Distribuzione prevista Poi la realizzazione Di servizi igienici Idonei Del completamento Delle finiture La sistemazione Degli spazi Di pertinenza esterni Con la realizzazione Anche di zone parcheggio Zone gioco E verde attrezzato Completate Da arredi urbani Le aree esterne Devono essere concepite Per dialogare Con il resto Della città In particolare Deve essere privilegiato Il rapporto Con il mare Che è proprio lì A due passi Di fronte all'edificio E abbiamo ritenuto E abbiamo ritenuto Di dover procedere Con la destinazione Iniziale pensata Dalla provincia Attuale Ed è quella appunto Del convitto L'inverno Per l'alberghiero De Cecco Di Pescara E l'estate Come colonia marina In più Avremo degli spazi Sottostanti Dove c'è il colonnato Di Pescara Deve effettuare Un bando Per poter individuare Una struttura ricettiva Cioè un albergo Più che altro Nella zona Di Montesilvano Dove poter Collocare I nostri studenti Convittori Che vengono Da tutta la regione Ma anche da fuori Regione Dal Molise E dalle Puglie Questo significa Un grosso esborso Economico Per la provincia E quindi per la collettività Ma significa anche Un grande disagio Per i nostri ragazzi Che si trovano Sbattuti Anno dopo anno In strutture Sempre diverse Ma soprattutto Perdono quel senso Di stabilità Che è necessario Ad una comunità Educante Torniamo Nelle pagine Di Pescara Del centro Ancora cronaca Piazza Troilo Accademia del gusto Incendiato Il portone Bar nel mirino Il titolare Il quarto attentato In quattro anni E poi sempre per la cronaca Rapina Una diciassettenne Romeno In manette Andiamo avanti Omicidio Pavone Voglio la verità Sul mio fratello ucciso Domani in Cassazione Il processo a Gagliardi Condannato in appello A diciannove anni Parla La sorella Dell'ingegnere E chiede Appunto Verità E giustizia Ancora Domenica In Piazza Salotto Passeggiata Per aiutare i malati Di SLA E nel taglio basso Besity Day Incontri con i cittadini Il centro per i disturbi alimentari Di popoli Oggi offrirà Assistenza Informazioni In Abruzzo 462 Scomparsi Sbagliato Aspettare 48 ore Firmato Un protocollo D'intesa Tra associazione italiana Giovani Avvocati E Penelope Che assiste le famiglie Vittime Di questo dramma Chi sparisce Dice L'associazione Penelope Deve essere cercato Subito Ieri c'è stato Un convegno Nell'aula Alessandrini Del tribunale Di Pescara In cui sono state portate Anche delle storie Che sono quelle Di persone scomparse Nella nostra regione Aiutateci a trovare I nostri familiari Cesare E Benito E vedete Vincenza Benedetti Che mostra la foto Del fratello scomparso Nel 2015 Rosanna De La Penna Che cerca Il padre Benito Sparito Il 15 marzo scorso Da Guardia Grele Convenio A cui ha partecipato Anche Il sottosegretario Alla giustizia Chiavaroli Tanti minori Prede Della criminalità Organizzata Scusate Andiamo a vedere Insieme Anche Questo Servizio Benito De La Penna Valerio De Torre Luca Spoto Cesare Benedetti Sono solo alcuni Dei 462 nomi Di persone scomparse Nella nostra regione Di cui non si ha più traccia Circa 10 casi all'anno Solo in Abruzzo Se si conta Dal 1974 Ad oggi Numeri che diventano Giganteschi Se si allunga lo sguardo In Italia Quasi 48.000 I casi risolti Sempre nello stesso Periodo di tempo Sulla sparizione Delle persone Però c'è una nuova legge Del 2012 Ed anche una nuova Sensibilità Che cresce Lo testimonia Il protocollo D'intesa Firmato questa mattina All'interno Dell'Aula Alessandrini Del Tribunale Di Pescara A conclusione A conclusione dei lavori Del convegno Organizzato da AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati E dall'Associazione Penelope Per approfondire Il tema Della tempestività Delle ricerche Fondamentale Per avere speranze Di successo E oggi Con l'Associazione Penelope Che da anni Ormai Lavora Efficacemente Nel campo Delle persone Scomparse Cerchiamo di dare Un supporto Per favorire Un'attività Precisa Dei giovani Legali Nel primo momento In cui emerge Una situazione Di potenziale Scomparsa Anomala Di una persona Quindi attraverso Questo protocollo Che a livello nazionale Noi cercheremo Di far sì Che tutti gli avvocati Facciano iniziative Ove possibile Finalizzate A stimolare La conoscenza Il problema Ma soprattutto Si faccia anche Formazione In quanto È una normativa Nuova Direi nuova Un po' per tutti Nessuno di noi L'ha studiata All'università Quindi ci sono stati Regolamenti nuovi Leggi nuove Che è opportuno Conoscere Sia per ben consigliare I familiari Delle persone scomparsi Sia soprattutto Per fare anche Da impulso La sparizione È un dramma Soprattutto per i familiari Una sofferenza Che si legge benissimo Negli occhi di chi Aspetta da anni La verità Sul destino Del proprio caro Come Vincenza Benedetti E Rosanna Della Penna È una cosa brutta Ha perduto un fratello Perché a mancano Gli mancava niente Stava insieme a noi Stavamo sempre dietro Perché sapendo Che lui non stava bene E quel giorno Che era il 21 Che è ritornato Mia marita all'ospedale Che si è messo Tre bypassi Gli stavo mettendo il cirotto Ho sentito il cangello Aperto Sono andato fuori Ho preso la macchina Ma non l'ho ritrovato Siamo Dalla mattina alla sera Proprio niente Siamo per il centrale Cappello Siamo da tutte le parti Niente 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 Non ho che dire E me lo pensiamo Davanti agli occhi 84 anni Non è che Un ragazzino Io vorrei Che pure una scheggia Di corpo Che riuscisse Uno fa il funerale Ma queste condizioni Non si può vivere Ehm C'è stato detto Non si preoccupi In giornata Lo troviamo Dove vuole essere andato Nelle condizioni sue Invece papà Non si è trovato Hanno visto Sì Nel raggio di un chilometro Lungo le strade Un 4-5 chilometri Però Non è stato trovato Io ho provato a dire Allargate le ricerche Perché Mi è venuto il dubbio Su una strada Che papà Qualcuno l'abbia preso Andiamo avanti I posti autocontestati L'inviato di striscia Ai politici Restituiti I parcheggi ai disabili Gimiglione Piomba in comune A Pescara Via la sbarra dei privilegi E Pagnanelli Promette Entro la fine dell'anno Sarà tutto risolto E l'assessore Sale sulla carrozzina Fa un giro intorno All'ex palazzo Ims Rischia di cadere Mentre sale Sullo scivolo Si tratta Dell'assessore Civitarese Andiamo avanti C'ha te alla memoria Per la giornata Scusate Per la giornalista E saggista Dell'Orso Omaggio Alla storica dell'arte Che Montanelli Deschisse così Una bionda scatenata Alla ricerca di bellezze Da raccontare Oggi San Cetteo C'è la tradizionale consegna Dei chatte d'oro A Pescara Stamane Con unione inquiline Rifondazione Sfratti zero Presidio In piazza Sacro Cuore Poi la Confcommercio Contro il cementificio E dice Va rimosso Nella pagina di Montesilvano Abbiamo già visto In precedenza Un aule per l'alberghiero E la colonia Ad Alfonso Il presidente di Marco E come l'aeroplanino Tornerà a volare Assenti i rappresentanti Del comune Alla consegna Dei lavori Per lo Stella Maris Andiamo avanti Nell'area metropolitana Sportone Cambia Se affida Si affida A un esattore pubblico Sarà l'agenzia Delle entrate Occuparsi Della riscossione Dei tributi E poi A Francavilla Dio parcheggio Di scambio Per la 14 Ora c'è la sirena Il progetto di finanza Annunciato dal sindaco Sarà sostituito Degli interventi Sotterrani In piazza San Giovanni Tatino Tariffe del tennis Il 5 stelle Contesta La giunta E poi Cane di salvataggio Avvia L'addestramento Sempre A Francavilla Andiamo nella pagina Di penne popoli Dell'Alta Val Pescara Scontro sulle consulenze Toppi Contro il sindaco A manopello La consigliere De posizione Contesta L'amministrazione E poi Vestina gas Domande Entro il 23 ottobre Pubblicato il bando Per la vendita Congiunta Delle quote Dei comuni di penne E colle corvino Apriamo adesso La pagina Di chietire Stiamo sempre Sul quotidiano Il centro Cade l'intonaco Chiuse quattro aule Liceo artistico Evacuato per un crollo Nella sala insegnanti Oggi ripartono Le lezioni Dopo la paura Vissuta a scuola Nel taglio basso All'Ibarton Licenziamenti Con incentivi Ortona Intesa sugli esuberi Una decina di lavoratori Vanno via Petaccia della CGL Dice di più Non si poteva fare Andiamo sul messaggero La pagina di Chieti Apre invece con i fondi Per via Piaggio Il teatro Maruccino Pioggia di soldi Dalla regione Scrive il giornale Ieri in provincia Intervento di D'Alfonso Per annunciare 800 mila euro Di finanziamenti Il presidente Una risposta Di imprenditori Albergatori Forse è nato L'asse con Buracchio Ma il sindaco Di prima Accusa il governatore Di ineducazione istituzionale E dice Venuto a fare Uno spot Nella nostra città Sui finanziamenti Della regione Andiamo ad ascoltare L'intervista Di Andrea Costantini All'assessore Alea Bilancio Silvio Paolucci Assessore Paolucci Una novità importante Dalla regione Arrivano Fondi Per il teatro Maruccino E per le attività produttive Di via Erasmo Piaggio Esatto Investiamo 800 mila euro 200 mila euro Per il teatro Maruccino 600 Per la zona industriale Di Chieti Scalo E a mio avviso Sottolinea Questo impegno Quest'ulteriore provvedimento Approvato Dalla giunta regionale La particolare vicinanza Ai territori In questo caso Ovviamente La città di Chieti E al suo aspetto Più produttivo Che sia culturale O proprio legato Alle attività economiche E produttive Di Chieti Scalo Ecco Ci avviciniamo poi A un momento importante Per il Maruccino Perché a gennaio Ci sarà l'anniversario Esatto I 200 mila euro stanziati Sono proprio rivolti Alla celebrazione Del bicentenario Del teatro Maruccino Ulteriori fondi Sono già stati dati Nei mesi passati Per quanto riguarda L'attività ordinaria E ulteriori Ne arriveranno Anche nelle prossime settimane È stato dato Un ulteriore ossigeno A una parte Della città Che l'aveva bisogno Per quanto riguarda Il tessuto produttivo Lì In via Erasmo Piaggio Diverse attività Insistono Esatto È anche un segnale Molto importante Perché se si crede Come l'accordo Recente Sulla Daico E con la Daico Dimostra Nelle attività produttive Nel ruolo Delle grandi intraprese Bisogna che le istituzioni Siano vicine Nel risolvere Anche quelli Che possono essere Aspetti di funzionalità Connessa Come nel caso di specie La viabilità E la mobilità Sul messaggero Nella pagina Di Lanciano Vastortona Che vedete Alle mie spalle Bilancio Il nuovo assessore Si presenta Orecchioni Massima trasparenza Tutti devono sapere Dove vanno a finire I soldi Cercheremo di alleggerire Le tasse Sostituisce Al comune di Lanciano Pino Valente Scomparso Lo scorso 26 di settembre Girandole Di incarichi La delega Ai lavori pubblici A Verna Il sindaco Pupillo Dice Ripartiamo Coslancio Il buon governo Paga Sempre Ancora Dalle pagine Di Chieti Ma questa volta Sul quotidiano Il centro Mai tangenti Per lavori Vado avanti A casa Canditella Il sindaco Agli arresti Da due settimane Scrive una lettera Sfogo E chiede di tornare libero Nessun favore Alle ditte Si difende Il primo cittadino Andiamo ad aprire Adesso la pagina Dell'Aquila Ancora sul centro Strade pericolose Travolto Mentre attraversa 14 anni Va in ospedale Paura in via Strinella L'auto Condotta da un 83 anni E ora sotto sequestro I residenti protestano Strisce pedonali Sbiadite E velocità Fuori controllo E poi Nuova grana Per il comune Lascia il colonnello Grippo Polizia locale Senza una guida Poi Mobilitazione Per difendere L'università Dagli scippi Dopo la chiusura Della scuola Di specializzazione In pediatria Nel taglio basso Chef emergenti Da Alessandro In finale Questa è la pagina Di Teramo Che però vedremo Tra pochissimo Andiamo a vedere Invece la pagina Dell'Aquila Sul messaggero Palazzo moderno Vicino all'antico Bello ma non adatto Al contesto E l'apertura Il caso di Piazza Santa Maria Paganica Infiamma il dibattito Sulla ricostruzione La città Si divide Tra bruttura e innovazione Il progetto Vagliato Dalla soprintendenza Ancora Nel taglio basso L'inchiesta Strage Dell'elicottero Del 118 Rimesso il rapporto Fa un primo Importante passo In avanti L'indagine Portata Avanti Dal PM Simonetta Ciccarelli La pagina Di Avezzano Sulmona Tribunale Oggi Summit E al fatti Appetiti Attacca Di Pangrazio Ha fatto scalpore Il documento Udc Contrario Alla soppressione Dei presidi Giudiziari In difesa Della Corte D'Appello Di L'Aquila Oltre al Sottosegretario Chiavaroli Anche Cesa Potrebbe Essere investito Del problema Andiamo Adesso A vedere La pagina Di Teramo Sul Messaggero Tercop Tutti a casa Entro fine anno E l'apertura Il comune Non ha ancora indetto La gara per i parcheggi Rischia nel posto 28 lavoratori Della cooperativa Dal 31 dicembre Le strisce blu Non saranno più a pagamento Il presidente Un possibile danno Erariale Per il municipio La società Chiede che il sindaco Brucchi Faccia emanare il bando Per il rinnovo Della gestione Di 480 stalli E poi La sanità Asl Per Fagnano Cerochè Di Paolucci Ora la conferma Aspetta Alla giunta Andiamo nella pagina Della provincia Il Gualandi Chiede un maxi Risarcimento A comune Università Da Giulianova In ballo Anche la somma Di 184 mila euro Per i danni Che sarebbero stati Provocati Alla struttura Di via Gramsci La giunta Deliberato Di resistere In giudizio Nell'udienza Di novembre Andiamo a vedere La pagina di Teramo Sul quotidiano Il centro Sisma e burocrazia Centri storici Ricostruzione Impossibile Senza norme chiare Gli ordini Di architetti Ingegneri Chiedono ad Alfonso Di disciplinare La sovrapposizione Tra i danni Del 2009 E quelli Del 2016 Al momento È il caos I piani Già approvati Non possono Partire Poi Tutto fermo E lesioni peggiorate Da Montori A tossici Alla rabbia Dei presidenti Di consorzio Con i lavori Bloccati Nel taglio basso Strade provinciali Il ministero Ci ripensa Dopo le interpellanze Di Ginobile Del PD Oggi a Roma Incontro sul mancato Trasferimento All'ANAS Restiamo alle notizie Dal Terramano Apriamo la città Nuovo falso Allarme Dal cuore Del Gran Sasso Nel pomeriggio Previsto Il trasporto Eccezionale Di un contenitore Decontaminato Di materiale Radioattivo Il problema La comunicazione Tra ciò che avviene Nei laboratori All'esterno Continua a fare Difetto E gli ambientalisti Reclamano Una svolta Andiamo ancora avanti Caos traffico Sabato Niente Lavori Lavori Di quartiere Stira Stira un elenco Di interventi Per eliminare Il degrado A Santa Maria A Bitetto La Tercop Strumentalizzato Il parere Sulla Tercop La cooperativa Di parcheggio Attacca il sindaco Che avrebbe chiuso Ogni spiraglio Per i 29 Lavoratori Beccato dalla polizia A danneggiare Le auto 31enne ubriaco Devasta Senza motivo I tergicristalli Parabrezza E carrozzerie In zona di Piazza Martiri Sempre a Teramo Andiamo in provincia Recuperata La barca a vela Distratta dal fallimento Da marzo 2016 Era in Albania Per evitare Che finisse Nella bancarotta Di una società Turistica Teramana L'inchiesta Che ha portato La guardia di finanza Ad operare Il sequestro Della barca a Durazzo E' stata aperta Due anni fa Dal PM Rosati Andiamo Avanti L'ente porto Di Giulianova Sulle nomine Si danno i numeri All'otto Il coordinatore Forzista Costantini Mette fine Anche i rumors Sulla sua candidatura Faremo le primarie E poi da Silvi Il giudice Chiude il bar Per spaccio Di droga Il GIP Roberto Veneziano Chiude a tempo indeterminato Il bar iguana Dopo le indagini Dei carabinieri Andiamo adesso Sul centro Per aprire La pagina Dedicata Allo sport Iniziamo Dalla serie B E dal Pescara Lo sfogo Del terzino Del Pescara Zampano Va all'attacco Solo falsità Sul mio conto Il laterale Del Delfino Non è vero Che sono rimasto Controvoglia L'interesse Di una società Di A Fa piacere A qualsiasi giocatore Ma io Sto benissimo Qui Andiamo ad ascoltare Proprio le parole Di Zampano Intervistato Da Paolo Renzetti Non hai giocato Tutte le partite Quest'anno Ma sei soddisfatto Del rendimento Che hai avuto Nelle gare In cui sei stato Chiamato in causa Ho avuto Un po' di problemini Ho avuto La prima Foggia Che aveva la febbre Poi ci ho avuto Manacaviglia Poi altre partite Il mister Magari ha visto Alte persone meglio Quindi ha messo Loro Ma no Si può fare di più E si deve fare di più Come tutta la squadra Quindi Niente Ce li diamo sempre al massimo Per dare sempre di più Fino all'ultimo minuto Del mercato Sembrava che Zampano Dovesse andare via Da Pescara Sei rimasto Sei convinto Di questo progetto Sei convinto Della scelta Di essere comunque Rimasto A Pescara In questa stagione In Serie B Oppure Pensavi e speravi Di restare in Serie A Sicuramente Sono contento Ma non so Voi giornalisti O chi pensa Che sono rimasto qua Con la testa sbagliata Non ha proprio capito niente Poi io non devo Nei dimostrare niente Ai tifosi Che dicono È rimasto qua Con la testa sbagliata Perché non Non mi interessa proprio Quello che Deve sapere il mister Il gruppo E tutti quanti Quelli della società Lo sanno Quindi Ovvio Fa piacere Comunque Se c'è interesse Di essere A Come tutti i ragazzi E non devo giustificare Niente a nessuno Comunque Questa era l'intervista Che è andata in onda Ieri sera All'interno di Replay Il programma condotto Da Enrico Rocchi Proprio Che si occupa Del Pescara Noi Continuiamo a parlare Di Pescara Perché sabato C'è la partita Del Tardini A Parma Con una freccia in più Dopo 48 giorni Tornerà Mancuso Finora L'attaccante Ha giocato Solo 12 Minuti Nella gara D'esordio Col Foggia In Emilia Zeman Riavrà anche Coda E Palazzi Andiamo a vedere L'Abruzzo Sport Del Messaggero Sono rimasto Perché Credo In Zeman Sulle parole Di Zampano Che avete ascoltato Non devo dimostrare L'unla ai tifosi C'è chi crede Che lo abbia fatto Contro voglia Se avessimo vinto Contro Intella Frosinone Salenitana Adesso saremo in testa Il Boemo Ha convocato I suoi Al Poggio E poi Mancuso E Palazzi Pronti per Parma Per quanto riguarda Il notiziario Biancazzurro E ancora Il mister Ha in mano Ancora Una Incognita Perché Il Pescara Pur essendo Una buona squadra Non riesce A decollare Andiamo nel taglio Basso Sempre su questa pagina Il Vole idea 2 E si ecco dopo il successo C'è subito Mondovila Vittoria in Puglia Maturata grazie alle bordate Di Banks Che ha cambiato tutto E adesso l'impegno Ravvicinato Di domani Torniamo sul quotidiano Il Centro Per andare ad aprire La pagina di Serie C I biancorossi I biancorossi L'elogio di Repetto ad asta Il Teramo Il Teramo in campo Ricalca lo spirito Del suo tecnico Il DS Mi piace L'atteggiamento Del gruppo A margini di miglioramento I ragazzi devono Acquisire maggiore consapevolezza Nei propri mezzi Il pareggio conquistato In Extremis A Bassano Regala fiducia Al Diavolo Che sabato Affronterà il Padova Al Bonolis I posticipi Intanto Sono finiti 3 a 0 Fra Triestina E Fermana E 1 a 0 Fra Reggiana E Vicenza Andiamo a vedere anche La pagina di Serie C Sul messaggero Teramo tutta grinta Chiave per la salvezza 7 punti in 7 partite Ma il pareggio contro La capolista Bassano Vale oro Calore e De Grazia Il cuore ha pagato Adesso sabato Contro il Padova La squadra Tuglia e Maddio Sono ancora in dubbio I due giocatori Non sono al meglio Andiamo a vedere il titolo Sul Teramo Anche sulla città Teramo Ora servono I gol Delle punte Il Diavolo Chiude la settimana Con tre pareggi consecutivi A Bassano Torna al gol Ciro Foggia Ma le reti Su azione degli attaccanti Sono ancora troppo poche Scrive il nostro collega Jacopo Forcella 4 su 7 Gli attaccanti di Asta Finora hanno siglato 4 gol Di cui 2 su calcio Di rigore Torniamo sul quotidiano Il centro Andiamo nel taglio basso Di questa pagina Per l'eccellenza Il dirigente di Giulio Che Giulianova La Lichieti Il gruppo fa La differenza Questo è il punto Sull'eccellenza In Serie D Gli abruzzesi del girone F Boldrini Grazie a Battistini Adesso mi sento rinato L'attaccante dell'Aquila Ora gioco nel mio ruolo A Matelica Facevo la mezzala La vastese vola Con la premiata ditta Fiore e Leonetti E il Pineto Chiede rispetto Nel taglio basso Troviamo i direttanti Promozione domani La Coppa Per stabilire le qualificate Poi la prima Cattiglia Girone C Cerone del Sampelino L'arbitro non è stato messo in fuga La gara è stata sospesa Chiedi a Pescara Oggi la presentazione Dei calendari di Futsal E calcio femminile Completiamo la lettura del centro Con le pagine Del calcio giovanile Eccole qui E poi Andiamo a vedere Le altre notizie Il Roseto Non carbura E gli americani Stentano per il basket Più ombre che luci Nelle prestazioni Di Ogide e Comps A Porto San Giorgio Dalla stagione 2019-2020 La Serie A2 Passerà a un format A 28 squadre Il calcio a 5 Domani il Pescara Gioca in Bielorussia Missione Minsk Per il Pescara Calcio a 5 Poi il podismo Maratona d'Annunziana Si correrà Anche per sostenere Isav e Cesi Nel taglio basso Armonia d'Abruzzo Riparte l'assalto Al tricolore Per la ritmica Andiamo a vedere Anche La pagina del messaggero Completando nella lettura Per la Serie D Franca Villa Squadra Rapporto dai tifosi Terza sconfitta Consecutiva in casa Bisogna cambiare registro E poi L'assenza Di Benedetto Pesato sul San Nicolò Domenica Campobasso test Molto complicato Bisogna fare punti Per completare La Serie D Amaolo soddisfatto Il Pineto In crescita E ancora Colavitto Lavastese Rientra nei piani alti Ed è giusto Completiamo Anche la città Con la Serie D In primo piano Il San Nicolò Questa volta Il derby è indigesto La partita con Lavastese Segna il secondo stop consecutivo Campanile Il pareggio Era più giusto E poi Botte risposta Mariani Trudo E il Pineto Esce indenne Da Iesi Questo per quanto riguarda Il punto Sulla D Il basket Montegranaro È poderosa E Roseto Si arrende Seconda sconfitta In due gare Per la formazione Di Di Paolo Antonio Problemi Al rimbalzo E 98 punti Concessi Nel taglio basso Primo successo Per il Teramo Basket 89 A 66 Contro Re Canadi È davvero tutto Per quanto riguarda La nostra rassegna stampa Io vi ringrazio Per averci seguito Anche questa mattina Vi ricordo Gli appuntamenti Con la nostra informazione Con il TG6 Alle 14 Alle 19 E alle 23 Mattino 6 Torna domani Alle ore 8 Buona giornata Per tale Bona nit Grazie a tutti.